Bene, architetto Pannarello, in pratica diciamo che qui a Mesoraca avete avuto modo di scoprire delle bellezze davvero architettoniche, non soltanto, soprattutto nelle chiese di Mesoraca. Sì, dunque, Mesoraca è un centro storico straordinario, le chiese sono delle chiese importantissime, la chiesa al ritiro è forse uno degli edifici più importanti della nostra regione, uno dei più ricchi, uno dei più, come dire, coordinati dal punto di vista decorativo e preziosi. È un edificio anche difficile da raggiungere perché è ubicato nel cuore del centro storico, sul margine estremo del centro storico di Mesoraca, quindi questo forse lo ha anche preservato dalle mete turistiche, però è uno delle eccellenze della Calabria, uno degli edifici più importanti che andrebbero conosciuti dai calabresi. Accanto al ritiro c'è anche la chiesa della Candelora, dove ci troviamo adesso, la chiesa matrice dell'Annunziata, il santuario del Ceomo, assolutamente importante, un insediamento francescano di grande interesse con uno scrigno di opere d'arte, basta citare la scultura di Antonio Logaggini del 1504. Quindi Mesoraca è un centro assolutamente da rivalutare del crotonese, che fa parte appunto di una successione, di una serie di centri, penso a Petilia, penso a Belcastro, sino ad arrivare a Taverna, quindi della Presila in qualche modo. Noi abbiamo iniziato questa scoperta delle ricchezze del crotonese da qualche anno. Sapevamo, eravamo a conoscenza per sentito dire che Mesoraca avesse delle pitture, delle sculture molto importanti. Bene, oggi ne abbiamo preso effettivamente visione e consapevolezza e questo ci dà ancora più slancio ad abbracciare tutte le battaglie che noi stiamo abbracciando, perché cultura significa avere anche una visione, non volere rimanere nelle quattro mura. Grazie a tutti.